complicati, volevo semplicemente parlare di questo corso come forse il primo corso che in federazione non parliamo soltanto di Orienteering, ma parliamo anche dei destinatari della nostra attività formativa, della nostra attività informativa. È un esperimento che stiamo cercando di fare, cercare di coinvolgere i tecnici in un'attenzione particolare ai ragazzi e quindi fare in modo che i ragazzi sappiano che sono al centro della loro azione educativa e che attraverso l'Orienteering possono crescere, possono acquisire tante competenze, tante abilità. Fatto questa veloce premessa, per gli orientisti chiaramente non c'è bisogno che io presenti il presidente Sergio Anesi, ma eventualmente presento il presidente ai relatori che sono colleghi dell'Università dell'Aquila e quindi per un saluto ti ringrazio Sergio della tua partecipazione, della tua presenza e se vuoi prendi pure la parola. Va bene, è un piacere ovviamente potervi salutare in questa occasione, in occasione di un'altra iniziativa importante che la FISO, grazie devo dire al professor Di Cecco e agli altri collaboratori che ho all'interno del Consiglio e ai tecnici, sta portando avanti. Questo corso di formazione per tecnici e collaboratori credo si inserisca in un più ampio ventaglio di iniziative che la federazione ha portato avanti nel corso degli anni, ma che hanno visto un'accelerazione soprattutto negli ultimi anni, grazie anche a un'attività in collaborazione e con delle buone caratteristiche di riuscita anche con la Sport e Salute. Voi sapete che accanto al CONI adesso Sport e Salute sta cercando di promuovere non l'attività agonistica di altissimo livello, ma sta cercando di promuovere tutte quelle iniziative che possono trovare una promozione dei diversi sport, anche di quelli alle volte meno conosciuti. In questo contesto si inserisce un progetto al quale noi abbiamo partecipato, che ovviamente vede molte classi, il progetto è denominato appunto 100 classi, che vede molte classi scolastiche accedere alla conoscenza o avere l'opportunità di conoscere questo nuovo sport. Io devo ringraziare, come dicevo prima, le due persone che in questo momento sono collegate, che sono Vincenzo Di Cecco e Daniele Guardini, ma devo ringraziare anche Elena Poli per tutto quello che ha fatto e sta facendo nella sua veste di consigliere federale delegato per quanto riguarda la scuola, la formazione eccetera. Quindi un team davvero che sta producendo molto. In questo caso devo ovviamente esprimere il primo ringraziamento anche all'Università degli Studi dell'Aquila, in particolare all'Università per quanto riguarda le scienze motorie, perché credo che Di Cecco sia riuscito a avere con l'Università un rapporto che ci fa ritenere privilegiati nella promozione di questo sport. È uno sport, come sapete tutti, che non è molto conosciuto in Italia, ma che ha delle radici profonde che guardano non solamente all'attività fisica, ma all'attività che si può sviluppare grazie alle conoscenze e che ha soprattutto nelle regioni del nord e nell'Europa del nord la sua centralità, dove vede tantissime persone che la praticano. Pensate che l'altro ieri io ero a Venezia, a una manifestazione di sport orienteering che si sviluppava nella città di Venezia e erano 1.600 i partecipanti e su 1.600 1.400 erano stranieri che venivano a scoprire l'Italia in questo modo. Quindi ci sono anche delle valutazioni di altro genere che si potrebbero fare, ma credo che in questo contesto sia importante invece per noi ribadire la centralità della federazione rispetto alla divulgazione di queste conoscenze sportive che hanno la caratteristica di usufruire di un impianto che è una carta topografica e di usufruire di una bussola per raggiungere i diversi posti. Ma credo che non spetti a me poi illustrare questo sport, ma a me spetta invece ringraziarvi di nuovo tutti, e augurarmi che siate presenti anche alle altre due iniziative che si svolgeranno il 21 e il 28 novembre e che possiate magari, oltre a partecipare a questi corsi, essere invogliati e partecipare a tutte le nostre iniziative che si svolgono sul territorio italiano. Saremo ben lieti di avervi nostri associati, nostri atleti, qualora decideste di provare dal vivo, oltre che illustrarla sostanzialmente, oltre che conoscerla in questo modo attraverso i corsi, la nostra attività. Grazie ancora, vi lascio continuare con questa prima giornata e mi auguro di potervi davvero rincontrare in tante occasioni in cui incontreremo le scuole sul territorio italiano e magari, chissà, anche, come dicevo prima, alle nostre manifestazioni sportive. Grazie Sergio, a questo punto io darei la parola ai relatori, ma vorrei innanzitutto un attimo che c'è un eco, togliamo quest'eco, volevo ringraziare per la grande disponibilità i colleghi docenti dell'Università dell'Aquila e quindi passo a presentarvi, ci saranno con noi la professoressa Maria Giulia Vinci Guerra, che è una carissima amica, ma essenzialmente è l'anima, il cuore, ma anche il cervello del corso di Scienze Motorie dell'Università dell'Aquila. Lei è un professore associato, fa ricerca, partecipa a progetti, è difficile rincarmi tutti perché ne sono veramente tanti, ma sicuramente è addentro a tutta l'attività che si svolge nell'Ateneo, ma nella città dell'Aquila, nella regione Abruzzo sicuramente, e poi ha sicuramente anche un rapporto con associazioni nazionali dove partecipa in modo costante e costruttivo. insegna sia alla triennale che alla magistrale, insegna teoria, metodologia e didattica del movimento umano, ma anche sulla disabilità e sulla prevenzione. Inoltre a Giulia Vinci Guerra c'è anche Giulia D'Aurizio, psicologa, attualmente è assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie dell'Università dell'Aquila, si occupa di processi cognitivi in generale e in particolare di funzioni esecutive, sia in modalità di funzionamento fisiologico che patologico. Nello specifico fa attività di ricerca con focus sull'individuazione di specifici pattern di decadimento esecutivo, sia nell'invecchiamento che nei quadri iniziali e conclamati di patologie neurovegetative. Si occupa inoltre dello studio di potenziali relazioni bidirezionali tra attività fisica e funzioni esecutive e questo sicuramente è quello che noi affronteremo più da vicino, cercheremo di cogliere a pieno quello che la dottoressa Giulia D'Aurizio ci presenterà. Inoltre non interverrà questa sera, ma nell'ultima lezione sarà solo con il collega Valerio Buonavolontà e ha un'esperienza ormai pluriennale su tutto il campo delle scienze motorie e quindi aspettiamo con impazienza il suo intervento della parte finale. Se Giulia è pronta, io... Sì, è ancora, vi senso. ...e questa grande disponibilità che avete, quando avete accettato, il mio invito a partecipare a questa iniziativa. Io volevo approfittare, se mi dai due minuti, per ringraziarti di tutto quello che hai espresso nei nostri confronti, attestato di stima, di collaborazione, di amicizia, che io penso di poter ricambiare a nome di tutti e tre i colleghi che sono qui con noi, con me e con noi tutti e ti ringraziamo per questa opportunità perché tu sai quanto io ami questa attività dell'orientating, quanto la ritenga formativa e fortemente, diciamo, utile per la formazione proprio del carattere, non solo delle capacità motorie, ma proprio della formazione dell'individuo. Quindi per me parlare di questo oggi, insieme ai miei colleghi, è entusiasmante. Chiaramente io e te abbiamo lavorato tanti anni insieme, abbiamo fatto tante cose, quindi l'orientating me l'hai insegnato tu tanti anni fa, mi hai fatto appassionare. Quando insegnavo a scuola abbiamo portato i ragazzi nelle fasi nazionali perché i nostri montanari avevano delle skill particolari e riuscivano ad essere performanti moltissimo in tutti i settori, in particolare nell'orientating. Comunque, detto questo, è per far comprendere quanto non sia assolutamente, come dire, per noi un dovere, ma è un piacere stare qui con voi questa sera a dialogare di orientating, di apprendimento, di capacità motorie, di tutto quello di cui parleremo e di cui daremo delle indicazioni utili, speriamo, ai fruitori del corso. Ti ringraziamo, ringraziamo il presidente, ringraziamo il regista che ci sta seguendo in questa situazione. Allora, pensavamo con Giulia, in considerazione del fatto che siamo un pochino già oltre, perché già se ne sono andate via circa mezz'ora della lezione che avremmo dovuto fare, di iniziare intanto con lei, perché dà dei presupposti sui quali io mi posso appoggiare meglio con quello che dovrò dire dopo. Quindi lei inizia e fa la sua, diciamo, ora normale, poi prendo io e comincio e poi la prossima volta ci invertiamo e ripartiamo, o se è necessario, perché diciamo che vorremmo non perdere quello che abbiamo preparato e cercare di recuperare questa mezz'ora, in un certo senso, non recuperandola in orario, ma recuperandola nel corso di queste quattro ore. Quindi cominceremmo proprio in questo modo. Inizia Giulia, poi mi attacco e fa la sua ora normale, quindi dieci minuti di pausa, attacco io cinque, dieci minuti per recuperare un attimo, attacco io, poi dopo la prossima volta recuperiamo quello che magari io non riesco a fare completamente oggi. Che dici Vincenzo, sei d'accordo? Visto che abbiamo fatto questa mezz'oretta di ingressi e saluti doverosi, di conoscenza doverosa di noi tutti, insomma. Va bene per te? Sì, vi siamo anche i colleghi che stanno in ascolto, ci sarà un momento di condivisione alla fine, ma soltanto alla fine di ogni relazione. Assolutamente sì, anzi noi gradiremmo anche essere interrotte magari se loro hanno delle domande su quell'argomento in quel momento, perché poi magari scivolando nel corso del tempo si può perdere l'entusiasmo nel fare una domanda e questo ci dispiacerebbe. Quindi se loro vogliono o tramite chat o direttamente prendendo la parola, prendendo il microfono, non so adesso come vogliamo fare, ci possono tranquillamente interrompere e chiedere una maggiore spiegazione oppure intervenire criticamente. Cioè siamo qui per coniugare le esperienze e far sì che questo sia un momento di informazione un po' per tutti, insomma, informazione e formazione. Va bene? Grazie Giulia. A te. Allora, quindi Giulia l'hai già presentata tu, ve la lascio e mi taccio. Buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti della professoressa Vinci Guerra, ringrazio personalmente il professor Di Cecco, la Fiso, mi scusi Di Cecco per questo invito. e partirei subito con la prima relazione, condividendo lo schermo. Magari disattivo la webcam mia, così è più facile anche la visione delle slide. Allora, l'obiettivo diciamo così principale della lezione odierna sarà quella di dare una definizione, una spiegazione di cosa sono le funzioni esecutive, di cosa intendiamo con funzioni esecutive e di comprendere attraverso, diciamo così, la descrizione di alcune di esse quanto siano importanti nel funzionamento quotidiano globale dell'individuo, quindi nella vita di tutti i giorni, ma in particolare cercheremo di capire quali di esse, in che senso e con quali modalità, modulano l'attività dell'orienting. Quindi perché alcune funzioni esecutive, più che altre, intervengono sia durante la pratica di questa attività sportiva, sia probabilmente potrebbero rappresentare dei mediatori cognitivi sia da sviluppare attraverso la pratica dello sport stesso, sia in un certo senso predire favorevolmente l'eventuale modalità con cui poi gli atleti si comporteranno nel momento in cui si troveranno a mettere in atto le proprie competenze, ovviamente rispetto a questa attività sportiva. In generale possiamo definire le funzioni esecutive, i processi esecutivi come moduli cognitivi di ordine superiore, quindi gerarchicamente sovrastrutturati, diciamo così, rispetto ad altri processi cognitivi e che fondamentalmente con meccanismi appunto dall'alto verso il basso, quindi gerarchicamente sovrastrutturati, svolgono il ruolo fondamentale di coordinazione dell'attività mentale, di tutti i processi cognitivi, di tutta l'attività mentale che quotidianamente, in diverse situazioni, nella vita quotidiana, nell'attività sportiva, in altri tipi di attività, quindi che quotidianamente modulano la nostra attività mentale e lo fanno, diciamo così, rendendoci particolarmente abili, efficaci ed efficienti nel mettere in atto un comportamento cosiddetto goal directed, quindi orientato ad uno scopo. In questo senso hanno quindi una spiccata funzione adattiva, perché? Perché in ultima analisi nella loro complessità promuovono proprio l'adattamento dell'individuo all'ambiente, secondariamente alla messa in atto di azioni che non sono messe in atto a caso, di comportamenti che vengono messi in atto finalizzati ad uno scopo. In ultima analisi, ma non per questo meno importante, i processi esecutivi hanno anche un ruolo di, diciamo così, controllo esecutivo sull'output motorio, quindi punto per punto con meccanismi altamente fini di temporalizzazione anche dello schema motorio predicono l'efficacia dell'azione che noi mettiamo in atto, quindi hanno un controllo esecutivo non solo sulla nostra attività mentale, ma anche sul comportamento finale che diventa a questo punto osservabili all'esterno. In generale, chi si occupa di funzioni esecutive, di processi cognitivi e sulla base anche delle numerose ricerche che sono state condotte, quindi dei numerosi dati che provengono anche dalla letteratura scientifica, si è concordi nel ritenere che le funzioni esecutive sono fondamentalmente queste che vedete elencate nella slide, quindi ci riferiamo ad attività di problem solving, in questa fase ve le elenco, poi nelle fasi successive, nelle slide successive prenderemo in esame, quindi descriveremo, entreremo più nel dettaglio, quelle che maggiormente potrebbero mediare e probabilmente lo fanno l'orienteering, quindi per ora accontentatevi semplicemente di questo elenco, le funzioni esecutive sono sicuramente ascrivibili, diciamo così alle funzioni esecutive, c'è sicuramente il problem solving, il goal setting, quindi la capacità di progettare un obiettivo da mettere in atto, da realizzare, la flessibilità sia cognitiva che comportamentale e quindi grazie a meccanismi che retroagiscono dopo la messa in atto di un comportamento ci consentono di valutare l'efficacia del comportamento stesso ed eventualmente sulla base di un confronto tra raggiungimento versus non raggiungimento dell'obiettivo ci consentono di mettere un punto perché l'azione finalizzata è stata messa in atto ed ha portato al raggiungimento dell'obiettivo oppure in caso contrario di ridefinire l'obiettivo stesso ci consentono inoltre di pianificare la nostra azione il nostro schema comportamentale e lo fanno grazie ai meccanismi di sequenziamento e di organizzazione del comportamento motorio complessivo ci consentono inoltre di monitorare online il proprio comportamento quindi di avere punto per punto mentre stiamo mandando in esecuzione il comportamento finale ci consentono di verificarne l'efficacia e l'adesione con l'obiettivo finale grazie a meccanismi di tipo attentivo ed in particolare all'attenzione selettiva ci consentono di essere particolarmente performanti quando di fronte ad una varietà di stimoli orientiamo la nostra attenzione verso una fonte di stimolazione che è in quel momento per l'obiettivo che dobbiamo portare a termine irrilevante ci consentono sempre grazie a meccanismi di attenzione di switchare quindi di shiftare il nostro focus attentivo da una fonte di stimolazione ad un'altra quindi di cambiare anche il set mentale durante l'esecuzione di un compito e questo immaginate cosa significa non solo nella vita quotidiana nella vita di tutti i giorni ma anche in un'attività sportiva qual è quella dell'orienteering tra le funzioni esecutive rientra anche l'inibizione della risposta quindi la capacità del soggetto di inibire una risposta perché non è più in linea non è più aderente all'obiettivo di raggiungere ed infine tra le funzioni esecutive sicuramente vanno citate la working memory la memoria di lavoro anche di questa ci occuperemo tra un po' e l'aggiornamento progressivo e costante dell'informazione che per un breve intervallo di tempo viene ritenuta nella memoria di lavoro anche questa è una funzione che diventa importante nel momento in cui si mettono in atto le competenze richieste in questa attività sportiva tra le funzioni esecutive quelle che maggiormente modulano e predicono e entrano in gioco nella pratica durante l'attività sportiva dell'orienteering sicuramente possiamo citare la flessibilità cognitiva e comportamentale l'inibizione della risposta il problem solving i meccanismi di attenzione sia selettiva sia di switching attentivo e infine la pianificazione tra un po' vedremo nel dettaglio cosa intendiamo per ognuna di queste funzioni esecutive e come nello specifico modulano l'intero comportamento umano una breve qualche nozione breve rispetto alle basi anatomo funzionali che rendono possibile poi la manifestazione delle funzioni esecutive cioè quali sono le aree cerebrali e questo è importante perché vediamo poi durante le varie fasi di sviluppo come cambia il cervello e quindi come cambiano le funzioni esecutive in relazione allo sviluppo neurale e cerebrale quindi un breve accenno a quali sono quelle aree corticali e sottocorticali che per le loro connessioni anatomiche per la loro posizione all'interno del cervello risultano e sono risultate nel corso dell'evoluzione ovviamente particolarmente adatte per l'implementazione delle funzioni esecutive proprio per la sua struttura anatomica e funzionale la corteccia prefrontale si presta diciamo così a questo compito questo perché riceve afferenze quindi riceve informazioni sensoriali dall'esterno, dal mondo esterno e le invia alle cortecce cerebrali sia primarie sia associative quindi alle aree motorie primarie e secondarie alla corteccia temporale alla corteccia parietale a tutte quelle aree che sono poi deputate all'elaborazione dei vari stimoli che siano visivi, che siano percettivi che siano uditivi inoltre entra in collegamento anche con delle strutture sottocorticali di fondamentale importanza sia per l'azione motoria sia per la programmazione del movimento e poi la mandata poi in esecuzione del movimento stesso sia perché rappresentano stazioni sensoriali diciamo così centri di smistamento per tutta l'informazione che dall'ambiente esterno arriva in corteccia diciamo nelle aree dove poi viene effettivamente elaborata e può produrre una risposta sarà dall'attività neurale diffusa di questo complesso network formato a sua volta da specifiche aree neurali che emergono appunto le funzioni esecutive viene da sé come una circuiteria diciamo così neurale così importante così ben diffusa all'interno del cervello umano rende poi conto della complessità del comportamento umano della cognizione umana e delle funzioni esecutive del funzionamento esecutivo in generale questa è semplicemente una slide in cui vi viene fatto vedere come ogni diciamo così network ogni area più o meno estesa è responsabile di una altrettanto specifica funzione esecutiva abbiamo detto prima che capire perché le aree frontali e prefrontali sono importanti per il funzionamento cognitivo per il comportamento umano e per le funzioni esecutive era fondamentale perché ci avrebbe consentito di capire quali sono le modalità di sviluppo sia a livello anatomico che a livello funzionale e infatti in questa slide che spero possa essere abbastanza esemplificativa vediamo come in funzione del tempo quindi in funzione della vita sia prenatale che postnatale che dello sviluppo di un individuo si va incontro ad una serie di diciamo così aggiustamenti neurali che ci ad esempio la mielinizzazione lo sfoltimento di alcune connessioni sinaptiche la formazione di nuove connessioni l'incremento volumetrico della materia bianca quindi una serie di modificazioni che consentono al cervello umano di raggiungere lo sviluppo completo ovviamente questo sviluppo che avviene a livello prettamente cellulare si rifletterà inevitabilmente sullo sviluppo delle funzioni esecutive ed infatti in funzione del tempo e in presenza del raggiungimento di specifici scatti di crescita a livello cerebrale sappiamo che le funzioni esecutive quasi al pari di altri processi cognitivi iniziano a comparire nei primi mesi di vita e diciamo così iniziano poi a differenziarsi in modo sempre più specifico a partire dei quattro anni sarà poi diciamo così ci sarà una finestra temporale che va dai quattro ai dieci anni che rappresenta il picco diciamo così di sviluppo di tali funzioni esecutive e nelle fasi successive col progredire del tempo durante la crescita si andrà incontro ad un perfezionamento delle funzioni cognitive stesse quindi esistono delle specifiche finestre temporali fondamentali per l'acquisizione di una specifica funzione esecutiva e saranno proprio queste fasi in cui diciamo così l'individuo il bambino in questo caso è maggiormente reattivo sia nel potenziamento delle stesse e sia in caso di lieve ritardo diciamo così rimaniamo sempre nell'ambito del processo fisiologico ma di un lieve ritardo nell'acquisizione di una specifica funzione sarà in questa specifica finestra temporale che si potrà intervenire che si potrà agire abbiamo detto che fino ai dieci anni c'è l'acquisizione di queste competenze soprattutto di processi quali la working memory il controllo inibitorio e l'abilità scusatemi l'abilità di task switching e superata questa fase diciamo così questo scatto di crescita l'individuo perfezionerà via via anche sulla base dell'esperienza che quotidianamente affronterà sia in contesti diciamo così quotidiani normali sia in contesti appunto di pratica di un'attività sportiva che può rafforzare potenziare e anzi stimolare lo sviluppo di queste funzioni esecutive vediamo più in dettaglio visto che questa è la fascia d'età più o meno alla quale ci riferiamo sia nel periodo prescolare che nel periodo scolare quali sono sulla base di quello sviluppo neuronatomico di cui abbiamo appena parlato le competenze che man mano verranno acquisite in particolare gli studi condotti finora in questo ambito di ricerca hanno ormai dimostrato come tra i 3 e i 5 anni d'età quindi siamo ancora in una fase diciamo così prescolare di scuola dell'infanzia c'è un aumento della capacità di controllo inibitorio del comportamento quindi il bambino diventa maggiormente capace di rispondere anche in maniera negativa di fronte a particolari stimoli o meglio diventa maggiormente capace e maggiormente consapevole di avere un controllo volontario sul comportamento stesso tra i 4 e i 5 anni d'età si avrà la comparsa dell'abilità di controllo attentivo sul proprio comportamento ci sarà un incremento della flessibilità cognitiva nonché la capacità di formulare strategie quindi inizia a comparire anche il planning la capacità di formulare strategie anche alternative nella risoluzione di problemi si arriva a 5 anni quando si avrà un incremento abbiamo visto dalla slide precedente la working memory inizia a comparire a partire dai 4 anni ma raggiunti 5 anni si avrà un incremento dell'abilità della working memory quindi della memoria di lavoro emergeranno quindi comportamenti che sono goal directed quindi finalizzati agli obiettivi di raggiungere e farà da raggiungere e farà la comparsa anche l'abilità di pianificazione nel raggiungimento di un obiettivo quindi il bambino inizia ad essere competente nell'abilità di pianificare tutte le fasi che anticipano poi la messa in atto del comportamento finalizzato infine sempre intorno ai 5 anni comparirà la capacità di prendere decisioni quindi inizia così lo sviluppo dell'abilità di decision making in situazioni però in cui entrano in gioco gratificazioni e punizioni quindi si avrà lo sviluppo anche dei sistemi poi cerebrali deputati alla gratificazione le aree un po' più sottocorticali quelle del sistema limbico per intenderci nel periodo scolare invece quindi ci collochiamo più o meno nella primaria tra gli 8 e 10 anni ci sarà un ulteriore sviluppo e un ulteriore perfezionamento della flessibilità cognitiva tra gli 8 e gli 11 anni verrà perfezionato il controllo inibitorio che era già iniziato precedentemente si svilupperanno funzioni attentive quali la vigilanza e l'attenzione sostenuta di queste poi parleremo nelle slide successive quindi per ora accontentatevi passatevi il termine di queste definizioni un po' sterili tra i 9 e i 12 anni ci sarà un incremento della quantità di materiale quindi di informazioni di stimoli che il bambino riesce a ritenere per un breve intervallo di tempo nella memoria di lavoro e quindi ci sarà anche un incremento nell'efficacia del funzionamento della memoria di lavoro e dai 12 anni in poi l'abilità di pianificazione verrà affinata verrà come dire raggiungerà un livello di maturazione funzionale paragonabile a quella dell'adulto miglioreranno anche le capacità di mettere in atto comportamenti finalizzati a raggiungimento di uno scopo quindi diciamo che a partire dai 12 anni il funzionamento esecutivo del bambino è parzialmente sovrapponibile soprattutto per alcuni tipi di funzioni esecutive è parzialmente sovrapponibile a quello di un adulto quindi diventa come dire viene da sé come insistere in questa particolare finestra temporale con il training l'allenamento di queste specifiche funzioni esecutive e in questo l'orienteering può fare diciamo così da guida quindi insistere in questo periodo nell'allenamento nel potenziamento di queste funzioni esecutive diventa particolarmente utile poi per l'implementazione di un'altra serie di processi cognitivi probabilmente potrebbero questo magari sarebbe utile e anche molto interessante condurre alcuni studi probabilmente potrebbe migliorare il rendimento scolastico potrebbe diminuire l'ansia sociale potrebbe migliorare la capacità relazionale dei bambini sono tutti quei siti a cui sulla base di quanto già sappiamo ci potremmo come dire interessare si potrebbe guardare questo proprio per pianificare una serie di come dire interventi di training in questa specifica fase dell'evoluzione del bambino ovviamente lo sviluppo delle singole componenti esecutive seguirà un andamento gerarchico lo abbiamo detto finora questo andamento gerarchico questo step diciamo così nell'acquisizione di alcune funzioni rifletterà il livello di maturazione neurale cerebrale di quelle specifiche aree soprattutto prefrontali di cui abbiamo parlato poco fa quindi in funzione diciamo così della maturazione di quelle aree cerebrali i primi processi esecutivi acquisiti sono quelli di attenzione selettiva e sostenuta successivamente si acquisiranno ma questo perché per acquisire competenze diciamo così di working memory affinché lo sviluppo della working memory avvenga è necessario che sia già stato acquisito questo meccanismo questa funzione esecutiva dalla working memory poi potenzialmente si andrà si vedrà lo sviluppo della capacità inibitoria del proprio comportamento quindi delle inibizioni anche della risposta e diciamo così ad un livello di maturazione maggiore si acquisirà la competenza di shifting attentivo quindi un'altra funzione esecutiva mediata dalle funzioni attentive ovviamente le modificazioni anatomiche funzionali a cui si si assisterà in quelle fasce d'età di cui abbiamo parlato e funzionalmente quei processi di sviluppo cerebrale di cui abbiamo parlato le modificazioni anatomiche coinvolgeranno soprattutto processi di specializzazione di quelle specifiche aree quindi si passerà da un cervello che non ha ancora completamente strutturati i network cerebrali su cui poi si implementeranno le funzioni esecutive a una specializzazione funzionale che facilita lo sviluppo di quelle funzioni esecutive e questo è un passaggio fondamentale e rientra sempre in quel preciso timing di sviluppo in quelle precise finestre temporali entro le quali è necessario che avvengano i processi di maturazione cerebrale e quindi è necessario che quelle funzioni esecutive particolarmente importanti anche per l'orienteering e che possono anche mediante l'orienteering essere come dire stimolate e potenziate e importante che avvengano in quelle specifiche finestre temporali passiamo ora a questo avevamo accennato passiamo a capire nel dettaglio quali siano le funzioni esecutive che più direttamente ed in modo anche bidirezionale possono essere collegate all'orienteering perché dico in modo bidirezionale perché ovviamente le funzioni esecutive lo abbiamo visto all'interno di uno sviluppo fisiologico sono step evolutivi acquisiti dal bambino ma capire come queste entrano in relazione con l'orienteering e come l'orienteering possa modulare un'ulteriore acquisizione un'ulteriore specializzazione un'ulteriore potenziamento di queste funzioni esecutive appunto rimane interessante ed una sfida anche quindi iniziamo con la definizione di flessibilità cognitiva e comportamentale innanzitutto questa funzione emerge a partire dai sette anni in un intervallo di tempo che va dai sette ai nove anni e si stabilizza intorno ai dodici anni l'abbiamo visto prima intorno ai dodici anni il cervello del bambino ma il funzionamento esecutivo del bambino più o meno ricalca quello dell'adulto quindi la flessibilità diciamo che un bambino di dodici anni è dotato di una corretta e perfettamente funzionante flessibilità cognitiva e comportamentale che cos'è la flessibilità cognitiva e comportamentale ci riferiamo ad essa come alla capacità del soggetto quindi di un individuo sia adulto sia esso un bambino di ridefinire di volta in volta il proprio obiettivo nel momento in cui nell'ambiente esterno sopraggiungono delle variazioni che quindi chiamano in causa necessariamente una ridefinizione dell'obiettivo sia che queste variazioni riguardano il proprio stato mentale quindi ci consente di come dire fare un reset dell'obiettivo che avremmo dovuto portare a termine e ridefinire sulla base le informazioni che ci arrivano sia dall'ambiente esterno sia eventualmente dal nostro stato mentale di appunto ridefinire di ridefinire un obiettivo da raggiungere a livello funzionale come si manifesta come si manifesta nella vita di tutti i giorni la flessibilità cognitiva e quindi quella comportamentale si manifesta con la capacità dell'individuo sia il suo adulto sia il suo bambino di riconfigurare lo schema motorio che è quindi necessario alla messa in atto di quel comportamento finalizzato che deve servire al raggiungimento dell'obiettivo che abbiamo nuovamente ridefinito ovviamente la flessibilità sia di tipo cognitivo sia di tipo comportamentale diventa anche una misura di quanto l'individuo è veloce nell'adattarsi all'ambiente esterno ma soprattutto è veloce nel rispondere ai cambiamenti che provengono dall'ambiente esterno l'altra funzione esecutiva strettamente collegata all'orienteering appare essere la pianificazione che cos'è la pianificazione è l'abilità del soggetto di prevedere l'obiettivo da raggiungere di scomporre questo obiettivo in sotto obiettivi quindi step intermedi di sequenziare sia a livello spaziale che a livello temporale l'esecuzione poi fattiva di questi sotto obiettivi inoltre ci consente di ritenere quindi di trattenere nella memoria di lavoro queste sequenze d'azione fino poi all'esecuzione del comportamento stesso e ci consente che è una funzione fondamentale anche nella vita di tutti i giorni di ridefinire un nuovo schema d'azione in caso di incongruenza che significa questo significa che nel momento in cui abbiamo definito un obiettivo i nostri sistemi cognitivi e motori hanno mandato in esecuzione il comportamento che in quel momento risultava essere il più in linea e il più funzionale per la realizzazione di quell'obiettivo quindi abbiamo finalizzato il nostro comportamento ma dall'esecuzione del comportamento stesso ci è arrivato un segnale diciamo così di allarme di incongruenza o perché il comportamento motorio che ci sembrava essere adatto per il raggiungimento di quell'obiettivo in realtà si è rivelato inefficace oppure perché nel frattempo durante la messa in esecuzione di quel comportamento di quello schema d'azione di quell'azione motoria sono cambiate le condizioni ambientali e quindi devo ridefinire l'obiettivo vedete come il confine tra flessibilità cognitiva e comportamentale e pianificazione è veramente molto sottile sono però entrambe funzioni sono però funzioni esecutive che mediano all'interno di una stessa diciamo così di uno stesso macro funzionamento step diversi nella sua attività diciamo così rutinaria la pianificazione è coadiuvata quindi entra in gioco anche in seguito all'aiuto di altri due sottoprocessi il sequenziamento e la capacità di monitorare punto per punto il nostro comportamento cosa intendiamo con sequenziamento del comportamento in particolare ci riferiamo adesso come alla capacità di pianificare di scomporre e di temporizzare quindi di dare un preciso timing ad eventi o a schemi d'azione quindi ci permette di codificare l'ordine con cui avvengono gli eventi e ci permettono soprattutto di organizzarli sia dal punto di vista spaziale che dal punto di vista temporale all'interno della memoria di lavoro il sequenziamento del comportamento viene ovviamente guidato dall'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere vedete come finora appare chiaro come tutti questi processi sono poi finalizzati al diciamo così al coadiuvare l'individuo adulto o non nella messa in atto di un comportamento di un'azione di uno schema motorio che risulti adatto al raggiungimento di un obiettivo come fa il nostro sistema cognitivo ad operare il sequenziamento lo fa attraverso due diversi meccanismi di codifica l'uno riguarda il processamento delle caratteristiche fisiche e percettive dell'oggetto e sulla base di questo noi siamo in grado di riconoscere di dare un'identità all'oggetto che percepiamo nell'ambiente esterno e per oggetto intendiamo l'intera varietà di stimoli con cui ci dobbiamo confrontare che sia un oggetto che ci si trovi di fronte ad un percorso ad un diverso tipo di percorso che ci si trovi di fronte a degli ostacoli in generale a qualsiasi oggetto incontriamo nell'ambiente circostante il secondo meccanismo è invece quello che prevede il processamento che rende conto delle modalità con cui processiamo quindi elaboriamo le caratteristiche di ordine cioè le modalità con cui siamo in grado di stabilire le relazioni temporali che stabiliscono reciprocamente sia i singoli eventi sia le azioni che noi mettiamo in atto in riferimento ai singoli eventi ovviamente ovviamente questa fase di riconoscimento dell'oggetto e per oggetto ripetiamo intendiamo qualsiasi stimolo ci troviamo nell'ambiente esterno quindi ovviamente il riconoscimento dell'oggetto deve necessariamente precedere l'elaborazione delle caratteristiche poi spaziali e temporali dell'oggetto stesso perché se noi non riconosciamo l'oggetto non siamo poi nemmeno in grado di capire quali relazioni sia spaziali sia temporali esistono tra questo oggetto e l'ambiente esterno l'ambiente circostante e quindi non siamo nemmeno in grado di stabilire poi di decidere quale strategia comportamentale quale meccanismo d'azione dobbiamo mettere in atto ogni comportamento ovviamente può essere scomposto può essere suddiviso in elementi costitutivi quali sono gli elementi costitutivi di un comportamento complesso sono quelle che vengono definite sequenze d'azione ovviamente queste ne possono essere nuove oppure possono essere familiari possono far parte di azioni rutinarie di azioni abitudinarie di azioni che oppure siamo allenati a dover svolgere ovviamente più un'azione è automatica più un'azione è rutinaria più è altamente presente altamente rappresentata nei nostri sistemi di memoria più saremo veloci abili efficaci ed efficienti nella sua mandata nella sua esecuzione in cui la mandiamo in esecuzione questi schemi comportamentali con un elevato livello di familiarità prendono il nome di script che cos'è uno script riducendolo ai minimi termini uno script è una rappresentazione mentale automatica stereotipata e ben appresa di uno specifico comportamento all'interno di un preciso ambiente quindi la mandiamo in esecuzione ogni volta che ci troviamo in contesti familiari oppure che stiamo mandando in esecuzione azione in cui siamo particolarmente competenti ed abili ci consente di essere veloci nell'esecuzione del comportamento perché non necessita di un controllo continuo cognitivo quindi richiede meno dispendio cognitivo meno dispendio di energie cognitive per essere mandate in esecuzione e ci consente di essere veloci anche perché non solo abbiamo ben appresa l'intero diciamo così abbiamo ben appreso l'intero schema ma perché questo è già presente nel nostro sistema di memoria con la corretta modalità temporale con cui deve essere mandato in esecuzione quindi un comportamento di questo tipo ovviamente ci consentirà di essere più veloci rispetto ad un comportamento che invece non è così rutinario non è così ben appreso in cui non siamo particolarmente abili ovviamente questi script nel momento in cui ci troviamo di fronte a situazioni che sono rutinarie ma che per una o più variabili mutano rispetto allo script originario che abbiamo diciamo così già ben appreso già depositato in memoria possiamo andare incontro a quello che viene definito updating dello script quindi ad un aggiornamento funzionale dello script in cui includiamo i nuovi elementi che ci provengono dall'ambiente esterno e questo è un altro indice diciamo così di quanto il nostro sistema comportamentale e cognitivo possa in realtà essere flessibile anche soprattutto in contesti naturali come ad esempio sono quelli a cui l'orientering ci espone quando è che andiamo incontro ad un aggiornamento dello script quando in un contesto nuovo dobbiamo individuare un nuovo obiettivo e quando ci troviamo di fronte a situazioni in cui entra in gioco il problem solving quindi quando sulla base degli elementi già presenti nel contesto già presenti nell'ambiente dobbiamo operare una ristrutturazione diciamo così degli elementi stessi affinché dobbiamo riformulare l'obiettivo stesso abbiamo detto che nella slide precedente che in alcune slide precedenti che la pianificazione si serve oltre che del sequenziamento del proprio comportamento anche della capacità dell'individuo di monitorare il comportamento che cos'è il monitoraggio a cosa si riferisce l'abilità di monitoraggio del proprio comportamento si riferisce alla capacità di ogni individuo sia adulto che nonna che bambino della capacità appunto si riferisce alla capacità dell'individuo di valutare di controllare online quindi mentre lo stiamo mandando in esecuzione punto per punto la propria prestazione quindi è un controllo fine puntuale che riusciamo a fare grazie ad un matching tra i sotto obiettivi che stiamo di volta in volta raggiungendo raggiungendo scusatemi e l'obiettivo atteso quello che nella fase iniziale di pianificazione del comportamento della strategia comportamentale avevamo individuato come obiettivo da raggiungere ovviamente il monitoraggio del proprio comportamento va distinto dalla valutazione poi offline a posteriori che stiamo in grado di fare della correttezza diciamo così dell'efficacia del comportamento che abbiamo mandato in esecuzione sono due processi cognitivi esecutivi diversi ma il monitoraggio è quello che ci consente punto per punto mentre stiamo mandando in atto lo schema motorio di correggere di aggiustare il tiro di modificare sulla base appunto di questo matching di questo confronto continuo che viene fatto tra i sotto obiettivi che di volta in volta raggiungiamo e l'obiettivo finale atteso l'area diciamo così corticale deputata al monitoraggio del proprio comportamento così una nozione che vi può risultare utile è la porzione dorso laterale della corteccia prefrontale vedete come ancora una volta ritorna nella funzionalità esecutiva la corteccia prefrontale continuiamo con la descrizione di quali delle diciamo così delle funzioni esecutive strettamente relate all'orienteering e quindi entriamo nel dettaglio dell'inibizione della risposta che cosa è l'inibizione della risposta è un processo esecutivo che ovviamente che rende possibile la soppressione online quindi anche in questo caso mentre sto mandando in esecuzione la risposta motoria quindi ci consente di sopprimere di inibire di emettere un segnale di stop un segnale cognitivo di stop al nostro comportamento nel momento quando ci troviamo di fronte ad una risposta o automatica oppure parzialmente preparata parzialmente mandata in esecuzione a favore di una risposta che invece è perché sono cambiate le richieste provenienti dall'ambiente esterno o perché i sottobiettivi che sto raggiungendo non matchano più con l'obiettivo che mi ero prefissata quindi ci consente di inibire quella risposta comportamentale e di riprogrammare per mandare in esecuzione la nuova risposta comportamentale aderente alle nuove richieste provenienti dall'ambiente esterno per capire come le funzioni esecutive operano in generale sui processi cognitivi Miyake e collaboratori nel 2000 hanno proposto un modello secondo questo modello le funzioni esecutive modulano il funzionamento cognitivo quindi il funzionamento cerebrale mentale di un essere umano attraverso tre processi l'inibizione di cui abbiamo parlato prima l'informazione e il monitoraggio dell'informazione in working memory di cui parleremo tra un po' e lo shifting attentivo quindi una funzione attentiva anche questa che affronteremo a breve l'inibizione l'abbiamo parzialmente definita si riferisce lo ripetiamo alla capacità dell'individuo di inibire una risposta comportamentale dominante e automatica e lo fa grazie all'intervento dell'attenzione selettiva quindi di un meccanismo prettamente attentivo che consente al nostro sistema cognitivo di inibire i distrattori quindi quegli stimoli che in un qualsiasi contesto non sono rilevanti per l'esecuzione di un comportamento per il raggiungimento di un obiettivo a favore invece della messa in atto di strategie comportamentali più efficaci l'updating e il monitoraggio dell'informazione in working memory lo abbiamo parzialmente definito comunque si riferisce alla capacità del soggetto di trattenere in memoria per un breve intervallo di tempo le informazioni affinché queste possano essere manipolate ed utilizzate poi in questo processo quindi nel matching tra sottobiettivi e obiettivi prefissati e eventualmente nella ridefinizione in caso di non pairing tra i sottobiettivi e l'obiettivo prefissato è coadiuvata anche essa dalla corteccia cingolata anteriore e dall'attivazione dei circuiti frontoparietali in particolare abbiamo più volte nel corso di questa finora insomma nel corso di questa lezione accennato ai processi di working memory cos'è in particolare la working memory ci riferiamo alla working memory ovviamente come un processo cognitivo ad una funzione esecutiva che definisce uno spazio di lavoro mentale quindi un vero e proprio mental worksheet grazie al quale possiamo immagazzinare temporaneamente manipolare e rielaborare le informazioni importanti per l'esecuzione di uno specifico compito per il raggiungimento di uno specifico obiettivo ma solo per un brevissimo intervallo di tempo e infatti la working memory è sì memoria di lavoro ma è una forma di memoria a breve termine quindi ci consente temporaneamente di immagazzinare l'informazione necessaria per l'esecuzione di attività cognitive più complesse tra cui la scelta tra i vari candidati azione dello schema motorio più funzionale in quel preciso contesto in quel preciso ambiente e per rispondere a quegli specifici stimoli quindi anche in questo caso diciamo così che una tra le funzioni esecutive che meglio mediano e modulano l'efficacia l'efficienza del comportamento e anche la capacità di adattarsi velocemente a situazioni e contesti nuovi ad ambienti mutevoli ovviamente lo abbiamo detto all'inizio della lezione anche l'acquisizione della working memory segue un preciso timing di sviluppo si realizza all'interno di una specifica finestra temporale che ricalca lo sviluppo neurale di specifiche aree soprattutto quelle prefrontali la capacità di shifting si riferisce invece ai meccanismi di mental set shifting quindi alla capacità all'abilità del soggetto di switchare di shiftare tra diversi set mentali quindi si riferisce all'abilità esecutiva che comunemente viene chiamata task switching che cosa fa lo shifting ci consente e ci assicura che riusciamo a passare velocemente tra diversi compiti in questo senso parliamo di set mentali e quindi favorisce e ci assicura la riconfigurazione la capacità di riconfigurare questi compiti questi set mentali anche in questo caso al variare del feedback che proviene dall'ambiente esterno in presenza quindi di una variabilità ambientale solo un accenno al fatto che nel momento in cui si va incontro ad una alterazione anatomica funzionale di quelle specifiche aree si può andare incontro ad uno e questo può riguardare purtroppo anche le fasi iniziali dello sviluppo di un individuo si può andare incontro ad un complesso quadro clinico di gravità dipendente dalle motivazioni poi dal tipo di lesione che ha portato al danno che si riscontra come sindrome del lobo frontale ma non è questa la sede in cui affrontare questo discorso solo un breve accenno ovviamente esistono dei protocolli sperimentali che frequentemente più frequentemente i ricercatori utilizzano per misurare queste funzioni esecutive questo solo per dirvi che non sono processi di cui noi teorizziamo l'esistenza di cui ipotizziamo l'esistenza di funzionamento ma che sono funzioni cognitive misurabili con degli strumenti oggettivi standardizzati e validati quindi che risultano particolarmente efficaci nel dimostrare non solo l'effettiva presenza di una funzione esecutiva ma anche di capire per esempio in fasce d'età diversi in condizioni di patologia o non patologia o appunto di normalità all'interno di una specifica popolazione ad esempio persone che performano meglio in uno sport persone che si impegnano che performano meglio in altri sport quindi ci consentono di misurare la performance esecutiva specifica appunto con l'utilizzo di strumenti che sono standardizzati ad esempio l'inibizione della risposta quel meccanismo che abbiamo descritto prima che ci consente di mandare un segnale di stop e se ci accorgiamo che quella risposta che era automatica non è più efficace per il raggiungimento dell'obiettivo viene utilizzato con un task che si chiama gonogo questo ci consente di misurare anche i tempi di reazione dell'individuo in presenza di target e di non target e quindi ci restituisce una misura oggettiva fisiologica standardizzata di una funzione esecutiva così come le altre funzioni esecutive anche scusatemi anche l'inibizione della risposta segue un preciso timing di sviluppo anche in questo caso l'inizio dello sviluppo l'acquisizione e poi la specializzazione di questa funzione esecutiva ricalcherà la maturazione neuronale della corteccia prefrontale i numerosi studi condotti finora soprattutto quelli di risonanza magnetica funzionale ci hanno consentito di capire come bambini di 9 anni ottengono performance esecutive relative allo sviluppo dell'inibizione della risposta che sono entro certi limiti confrontabili con quelli dell'adulto quindi ancora una volta in quella specifica fascia d'età in quella specifica finestra temporale possiamo non solo favorire lo sviluppo e l'acquisizione di quelle abilità esecutive ma possiamo anche rafforzarle e potenziarle altra funzione esecutiva strettamente correlata in modo bidirezionale all'orienteering e sicuramente rientrano sicuramente i meccanismi di attenzione in particolare l'attenzione selettiva o esecutiva e lo switching attentivo di cui parleremo tra un po' che cos'è l'attenzione selettiva immaginate un normale contesto di vita una normale situazione abituale in cui il nostro sistema percettivo quindi i nostri organi di senso sono inevitabilmente colpiti da una valanga indifferenziata di stimoli se i nostri sistemi percettivi indifferentemente di modo indifferenziato dovessero recepire percepire la grande varietà di stimoli elaborare tutti questi stimoli e sulla base di essi fornire una risposta comportamentale il comportamento stesso dell'individuo risulterebbe sicuramente inefficace anzi di difficile definizione risulterebbe anche l'obiettivo programmato da raggiungere con quello schieva motorio quindi evolutivamente la natura ci ha dotato di un sistema di filtraggio passatemi il termine grazie al quale che è appunto rappresentato dalla funzione dall'attenzione selettiva o esecutiva grazie al quale siamo in grado di contrastare la distrazione perché questo sistema questo processo esecutivo permette di bypassare i distrattori quindi quegli stimoli non rilevanti gli stimoli che in quel momento per quello specifico compito in quella specifica situazione rappresentano comunemente dei distrattori quindi ci consente di bypassare questo segnale di fondo questo rumore a favore degli stimoli che invece in quel momento sono salienti per l'esecuzione del compito stesso per l'efficacia e l'efficienza del comportamento finalizzato che dobbiamo mandare in esecuzione quindi ci consente diciamo così di favorire di favorire l'emersione di stimoli importanti rilevanti per quell'individuo in quello specifico ambiente in quello specifico contesto e quindi rendere poi l'azione finalizzata particolarmente efficace e particolarmente efficiente altrimenti il nostro comportamento probabilmente risulterebbe afinalistico ma in generale il nostro sistema cognitivo il nostro sistema percettivo non sarebbe in grado perché troppo dispendioso dal punto di vista cognitivo di elaborare questa grande varietà di stimoli l'attenzione esecutiva nel suo diciamo così ruolo di filtraggio delle informazioni in entrata degli stimoli in entrata viene coadiuvata anche dallo spostamento dell'attenzione quindi dallo switching attentivo dallo shifting tra un focus attentivo e un altro a cosa serve lo spostamento dell'attenzione oltre che a coadiuvare i meccanismi dell'attenzione selettiva entra in gioco ogni qualvolta noi disancoriamo il nostro focus attentivo da una fonte di stimolazione e riallochiamo quindi ridirezioniamo quel focus attentivo verso una nuova fonte di stimolazione nuovi stimoli che sono comparsi in quel momento nell'ambiente esterno e quindi ai quali dobbiamo in quel momento prestare attenzione perché è quello che l'ambiente esterno ci richiede che siano ostacoli che siano oggetti che non dovrebbero essere presenti in un determinato percorso mentre noi ad esempio seguiamo un percorso e quindi siamo abituati ad un determinato tipo di stimoli il nostro sistema di switching attentivo ci consente di captare la nuova fonte di stimolazione di spostare il nostro focus attentivo verso la nuova fonte di stimolazione e quindi ci consente di ridefinire l'obiettivo il sotto obiettivo e lo schema motorio il comportamento l'azione con cui noi continuiamo nel raggiungimento dell'obiettivo stesso anche in questo caso ma solo per per darvi una prova dell'oggettività dell'esistenza di questi processi cognitivi il compito che comunemente nei protocolli di ricerca ma non solo anche in ambiti clinici viene utilizzato per misurare lo spostamento dell'attenzione e il task switching questo è un protocollo altamente standardizzato e validato anche perché ci consente di avere una misura del costo cognitivo quindi del costo di energia cognitiva che l'individuo di volta in volta mette in atto ogni qual volta si trova in condizioni di dover shiftare il proprio focus attentivo se vi ricordate prima che cosa abbiamo detto a proposito della flessibilità cognitiva vi dovrebbe più o meno risultare familiare il fatto che lo switch cost quindi questo costo cognitivo dell'abilità del soggetto di passare tra i diversi set mentali e di riconfigurare quindi l'azione è una misura della flessibilità sia cognitiva che comportamentale vabbè questo non ci soffermiamo un accenno ad uno studio che abbiamo condotto qualche anno fa solo per darvi un ancoraggio rispetto ad un protocollo che viene utilizzato magari in contesti di ricerca e quanto in realtà questo poi possa essere adeso ed in linea con i contesti diciamo così più naturalistici fuori da un ambiente di laboratorio in questo caso in questo studio in particolare abbiamo sviluppato un protocollo di task switching che utilizzasse degli stimoli diciamo così familiari per i soggetti ai quali poi l'avremmo somministrato che nello specifico erano degli atleti di volley giocatori professionisti di pallavolo il cui obiettivo è stato quello di valutare la flessibilità cognitiva e quindi comportamentale all'interno di questa popolazione differenziando sulla base del ruolo che i giocatori avevano all'interno della squadra quindi cercando di capire se il diverso ruolo giocato passatemi il termine dal soggetto all'interno della squadra in qualche modo potesse essere modulato oppure modulare la performance esecutiva misurata attraverso il task switching negli atleti stessi e l'altro obiettivo era quello di contribuire eventualmente all'individuazione alla definizione di un cosiddetto stile educativo basato sul ruolo questo perché un obiettivo secondario diciamo così era anche provare con l'aiuto ovviamente degli esperti a sviluppare dei protocolli di potenziamento di addestramento basati sul funzionamento esecutivo mediati dall'attenzione dallo switching attentivo attraverso protocolli di task switching la popolazione era suddivisa in tre gruppi c'erano gli attaccanti chi invece aveva un ruolo misto e chi aveva il ruolo di difensore questo è il protocollo che abbiamo somministrato come vedete abbiamo utilizzato degli stimoli familiari per i giocatori quindi erano delle foto realistiche di azioni messe in campo dai giocatori stessi e effettivamente quello che abbiamo trovato dopo l'analisi statistica e sulla base dei dati appunto a nostra disposizione quello che abbiamo trovato è che effettivamente sembrerebbe che specifici ruoli siano caratterizzati all'interno della stessa disciplina perché non abbiamo fatto un confronto tra discipline sportive diverse che all'interno della stessa disciplina specifici ruoli diversi ruoli sono caratterizzati da altre tante specifiche le abilità cognitive perché c'erano diversi tempi di reazione quindi diverse velocità con cui il soggetto eseguiva il test nonché una diversa accuratezza e ci ha consentito anche scusate un attimo 10 minuti facciamo pausa 5 minuti perché sono le 7 qua ok mi chiami quando stai ok scusatemi un attimo parlavo con la professoressa ci ha consentito anche di capire che sia le abilità cognitive pregresse del soggetto sia che il livello di expertise del giocatore basato appunto sugli anni di esperienza nello sport in cui performava modulavano sia i processi di controllo esecutivo quindi in generale il funzionamento esecutivo sia in particolare questa specifica funzione attentiva ok tra le funzioni esecutive anche il problem solving sicuramente rientra tra i processi strettamente connessi a doppio filo con la pratica con l'orientering che cos'è il problem solving ci riferiamo al problem solving come ad un processo cognitivo complesso che ci consente di rispondere in modo adeguato funzionale creativo e finalizzato in seguito alle sfide diciamo così poste dall'ambiente esterno quindi ci consente di funzionalmente arrivare alla risoluzione di specifici problemi come lo fa? lo fa perché ci favorisce diciamo così una riconfigurazione una ristrutturazione cognitiva degli elementi a disposizione con l'obiettivo di trovare una strategia alternativa una strategia comportamentale diversa rispetto a quella che in quella specifica in quello specifico contesto normalmente avremmo messo in atto e quindi di rendere efficace efficiente e goal directed il nostro comportamento immaginate tutte quelle situazioni in cui siamo bloccati nella risoluzione di un compito e per compito non intendo un compito di matematica un compito di italiano intendo una qualsiasi azione eseguibile nel mondo esterno quindi ogni volta che siamo bloccati nella risoluzione di una situazione di questo tipo ristrutturando gli elementi ripensando diversamente agli elementi di cui abbiamo a disposizione possiamo arrivare con un processo che si dice per insight alla risoluzione costruttiva creativa di quel problema stesso quindi diciamo così con modalità alternative diverse creative troviamo la soluzione per un problema al quale non riuscivamo a trovare soluzione quindi è un'altra di quelle funzioni che ci rende particolarmente performanti anche nella pratica di uno sport quale è quello dell'orienteering altre due diciamo così nozioni e il mio intervento di oggi insomma possiamo ritenerlo concluso i numerosi studi condotti finora in cui si è cercato di indagare la relazione tra la pratica dell'orienteering e le funzioni esecutive quello che in questi studi emerge è che effettivamente esiste una relazione forte tra l'orienteering e le funzioni esecutive e come specifiche funzioni esecutive possano essere potenziate dalla pratica costante coerente standardizzata e continuativa dell'orienteering quindi all'interno ovviamente si parla di studi quindi il protocollo è altamente standardizzato quindi prevedere protocolli standardizzati stabili in cui questa pratica venga con continuità insegnata ed eseguita sembra sulla base degli studi correlare positivamente con alcune funzioni esecutive in particolare si è visto come negli atleti se uso una terminologia per quanto riguarda lo sport non prettamente corretta non me ne vogliate comunque si è visto come atleti che praticava atleti diciamo così esperti nell'orienteering ottenevano un incremento della performance nei task quindi nei compiti di vigilanza e di attenzione selettiva rispetto ad atleti che praticavano altro sport come gli atleti esperti di orienteering avevano un incremento della prestazione nei compiti che richiedono la riconfigurazione del set mentale quindi in quei compiti che prevedono come nel task switching lo spostamento del focus attentivo avevano anche un incremento della quantità di informazioni su cui riuscivano a focalizzare l'attenzione in generale avevano mostravano un miglioramento della performance quindi della prestazione in compiti di su spaziali il miglioramento cognitivo riguardava anche le abilità percettive quindi erano molto più veloci molto più abili nel rilevare gli stimoli presenti nell'ambiente esterno indipendentemente della modalità percettiva quindi sia che fossero stimoli visivi somatosensoriali uditivi gli atleti esperti di orientini risultavano più abili rispetto ad atleti che praticavano altri tipi di sport oppure a soggetti che non praticavano nessuno sport ed in generale si è riscontrato un miglioramento dei processi di memoria in senso globale ed in particolare della memoria di lavoro specificatamente con un incremento della quantità di informazione che temporaneamente si riesce a ritenere nella memoria a breve termine di lavoro questo è da quello che ho trovato in letteratura uno studio pioneristico perché è stato il primo a dimostrare effettivamente l'esistenza di un forte link di una forte relazione tra funzioni cognitive mediate dall'ippocampo quindi relativi alla memoria a breve e a lungo termine e la pratica dell'orienteering infatti lo potete facilmente vedere dai grafici gli atleti diciamo così che praticavano orienteering esperti riportavano rispetto ai soggetti di controllo e rispetto agli atleti che invece si trovavano in un livello intermedio dell'abilità di praticare l'orienteering i primi quindi gli esperti in questa attività sportiva risultavano essere particolarmente performanti quindi avere una performance migliore nei compiti di memoria visuo spaziale che è quel tipo di memoria che si occupa di manipolare le informazioni a breve termine che provengono dall'ambiente esterno quindi dallo spazio gli autori di questo studio concludono la ricerca suggerendo come effettivamente si possano sviluppare dei protocolli di training relativi a questa disciplina sportiva e come questi possano effettivamente risultare particolarmente impattanti quindi avere una effettiva ricaduta pratica sul funzionamento in generale cognitivo degli individui adulti adulti ma anche dei bambini ed in particolare avere una ricaduta pratica sulle funzioni esecutive di cui abbiamo parlato oggi e in generale anche sul miglioramento delle capacità relazionali delle diciamo così dell'abilità di processare stimoli che hanno a che fare con le emozioni quindi in generale porterebbe sempre secondo gli autori di questo studio porterebbe ad un miglioramento generale della qualità di vita degli individui io vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto magari facciamo 5-10 minuti di pausa e poi interviene la professoressa Vinci guerra avete domande delle curiosità delle critiche qualsiasi tipo di stimolo e ben accetto grazie Giulia faccio da apripista eventualmente e volevo sottolineare che grazie per la relazione scientifica ma con forte ricaduta sul quotidiano di un tecnico che opera di un educatore che opera con ragazzi e bambini mi colpiva poco fa quando parlavi di rumore di fondo cioè la disattenzione che può eventualmente incidere sulla attenzione è inteso come qualsiasi elemento che può distrarre e noi in effetti cambiamo continuamente l'ambiente di lavoro cioè mentre tutti gli altri sportivi o la maggior parte degli sportivi operano sempre in uno stesso tipo di ambiente noi invece sviluppiamo la nostra attività elaboriamo le nostre esercitazioni in ambienti sempre diversi e quindi è veramente interessante questo discorso di che addirittura il rumore di fondo dovrebbe essere o potrebbe essere sfruttato per migliorare l'attenzione sì assolutamente non solo non solo cambia come dire l'ambiente in cui praticate lo sport ma all'interno dello stesso ambiente cambiano gli elementi presenti quindi le fonti di stimolazioni e di queste non tutti possono essere come dire stimoli a cui prestare attenzione tutta quell'altra parte che appunto è rumore di fondo viene inibita già da processi di attenzione ma questo processo può essere effettivamente potenziato in funzione di una migliore performance dell'atleta stesso per questo effettivamente queste funzioni esecutive entrano molto in relazione con le competenze immagino che non solo vengono sviluppate ma che già sono possedute da chi pratica orienteering grazie grazie Giulia a voi se allora togliamo la condivisione lasciamo qualche minuto proprio anche per bere un bicchiere d'acqua e aspettiamo l'intervento della professoressa Vinci Guerra fra qualche minuto e invito gli amici orientisti a eventualmente fare del certo è un argomento è una tematica che hai affrontato ci hai presentato veramente molto interessante il problema che non siamo abituati a questo tipo di tematica e ancora di più a calarla nella realtà sportiva oggi come oggi però ci rendiamo conto che tutti i campioni hanno necessità di appoggiarsi a questo ambiente diciamo di analisi delle reazioni della nostra mente e quindi credo che valga veramente la pena addentrarsi cercare di capire di conoscere come funziona questo nostro piccolo grande cervello alla fine il cervello e il comportamento sono parte di un tutto quindi l'uno non può prescindere dall'altro ma infatti sono discipline anche le scienze motorie e la psicologia molto vicine sono l'una alla continuazione dell'altra e viceversa è inevitabile che sia così hai fatto riferimento anche all'ippocampo come zona del cervello deputato proprio a gestire diciamo la nostra visione del mondo o delle mappe proprio mentale e ho letto di uno studio fatto dal CNR proprio sulla diciamo quello che potrebbe incidere l'orienting rispetto all'Alzheimer che colpisce essenzialmente questa zona del cervello chi è affetto da Alzheimer è stato riscontrato che ha in parole povere le cellule dell'ippocampo rovinate funzionanti non in modo efficace e quindi questo siccome l'orienting incide proprio sul lavoro di queste cellule potrebbe eventualmente ritardare potrebbe evitare assolutamente sì esiste una diciamo così un costrutto che si chiama riserva cognitiva che è data da tutto quello che noi nella vita prima dell'invecchiamento facciamo e tra questo rientra anche la pratica di attività sportiva di vario tipo ovviamente non si è non si è attualmente indagato in modo specifico come dire l'apporto dei diversi sport a questo però certamente persone che all'interno della funzione della riserva cognitiva hanno punteggi più alti perché hanno praticato nella vita adulta lo sport a livello sistemico e continuativo mostrano una resistenza diciamo così non solo all'invecchiamento fisiologico ma anche a quello patologico come può essere nelle demenze di alzheimer quindi assolutamente sì ma anche lo studio che vi ho descritto che ho condotto con il mio gruppo di ricerca qualche anno fa non era per fare come dire pubblicità era per effettivamente per ancorare quanto si fa nei laboratori al contesto realistico poi alla vita di tutti i giorni sono come dire mondi che dovrebbero dialogare credo che sia molto importante questo e se non vorrei prendere troppo tempo alla professoressa Vinci Guerra perché giustamente già siamo a buon se Giulia è pronta possiamo la sento un attimo sì sì allora non vedo non vedo domande se non qualche approvazione su quello che è stato detto e questo sicuramente ci fa piacere e non vedo altre domande la professoressa ha bisogno di 5-10 minuti e poi arriva va bene noi quindi possiamo continuare o meglio aspettare che qualche collega in linea ci possa eventualmente porre qualche domanda altrimenti possiamo pure continuare a chiacchierare però se c'è una domanda in chat no 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 scusate fare spazio ai colleghi che sono collegati anche se avete delle curiosità rispetto effettivamente poi a come si possa implementare come dire nella nella in un contesto scolastico insomma possiamo dialogare e confrontarci su questo oppure facciamo magari riposiamo facciamo riposare gli ascoltatori perché insomma la mia lezione sarà stata un po' pesante però diciamo che è stata una lezione abbastanza pregnante cioè non è stata attaccata così ha avuto sicuramente una progressione importante e quindi credo che l'unica cosa che in effetti bisogna sedimentare far sedimentare un po' perché gli argomenti che ci hai posto ci hai sottolineato sono veramente tanti e forse per molti non lo so ma forse anche abbastanza nuovo abbastanza o poco diciamo poco addentrate poco conosciute e quindi c'è sicuramente un po' perplessità sul porsi avanti c'è qualcuno che giustamente dice impegnativa ma non pesante e in effetti anche io condivido questa analisi insomma prima di decidere il taglio da dare ho letto tanto ho riflettuto tanto su quali potessero essere appunto i possibili punti di contatto tra queste due aree sicuramente sì come accennavo oggi per avere diciamo dei risultati in ambito sportivo c'è bisogno assolutamente di per potersi concentrare per poter sottoporsi a impegni notevoli per raggiungere dei traguardi sicuramente è occorre un grandissimo lavoro il cosiddetto mental coach chiaramente ha una una veste e un'importanza sempre maggiore nel nostro ambito ti fanno i complimenti perché è molto dettagliata ma forse questo non ci forse per questo non ci sono domande quindi sei stata sono stata esplicativa ringrazio no più che altro veramente offrire degli spunti per comprendere che tutto quello che è la manifestazione poi quindi di un comportamento ammonte a un processo cerebrale un processo cognitivo e anche appunto nella quotidianità non possiamo prescindere da questa consapevolezza e è così assolutamente sì e credo che anche per gli adulti ma chiaramente anche ancora di più essenzialmente per i bambini sia veramente importantissimo io ho cercato di attivare questa questo corso tenendo presente proprio questo cioè che secondo la mia esperienza di insegnante ormai cinquantennale l'aspetto cioè la nostra offerta è ha senso se dall'altra parte c'è chi riceve se non si riceve dall'altra parte tutto quello che noi offriamo serve a ben poco quindi tra l'afferente e chi riceve cioè bisogna trasmettere qualcosa che non vada disperso quindi c'è bisogno veramente di molta attenzione e bisogna capire c'è una manina alzata prego sì ecco io non avevo proprio una domanda ma oggi sono stato a seguire prima di questo un corso di natura totalmente differente c'è stato un intervento di Galimberti diciamo filosofo e psicologo che diciamo ha detto cose simili partendo da premesse diverse cioè l'importanza per i bambini di essere orientati agli obiettivi perché altrimenti poi in un discorso più generico non magari legato alla componente motoria viene meno il desiderio venendo meno il desiderio poi detto in parole povere si creano nascono adulti viziati quello che poi può anche capitare è che vengano fuori patologie e comportamenti invalidanti per l'adulto che sia la depressione i casi che comori e quant'altro è così la mancanza di motivazione la mancanza di capacità di pianificare degli obiettivi a breve e a lungo termine è così veramente quando dico che qualsiasi manifestazione osservabile all'esterno e quindi comportamentale che sia nella norma o che sia disfunzionale dipende dalla corretta funzionalità cognitiva o da un'alterazione cognitiva e così a questo riscontro anche poi per questo è anche importante conoscere in quelle fasce d'età queste modalità di funzionamento quindi sì assolutamente sì sono d'accordo con te ecco la domanda è venuta fuori non so se anche tu sei d'accordo con quello che è stato molto drastico ha detto i bambini se non li prendi su queste cose entro i sei anni di età poi sono cose che non incorreggi più allora diciamo che lui ha una posizione sempre ha posizioni sempre molto estremiste molto come dire un po' totalizzanti e certamente che esistono e quello a cui ho accennato anche io delle finestre temporali sensibili in cui c'è la possibilità di intervenire di potenziare di correggere di favorire lo sviluppo assolutamente vero se in quella fase temporale di finestra temporale sensibili al cambiamento alcune acquisizioni non si verificano oppure si verificano disfunzionalmente sarà difficile acquisirle o modificarle successivamente quindi non voglio ovviamente come dire criticare quello che dice Calimberti però lui ha una visione sempre tanto radicale delle cose in fondo è vero cioè è vero nella misura in cui poi bisogna lavorare tanto per correggere per modificare per promuovere l'acquisizione di quella competenza di quell'abilità o di quel processo che in quella finestra temporale sensibile di sviluppo non si è acquisita quindi in questo senso sì ha ragione è più come battere una moneta freddo la batti comunque ma ci vuole più tempo esatto assolutamente sì veramente è stato molto drastico a volte forse a tratti è scaduto un po' in dei luoghi comuni in alcuni momenti molto anche viscerale quando parla e quindi però sì a parte l'esperienza il background che ha e che è tanto viscerale e lui parla così anche secondo me per sensibilizzare eccessivamente e ci è riuscito ci è riuscito perché poi l'ha preso tutti insomma lo so lo so e sono le sue modalità di comunicazione allora vi chiedo scusa ma grazie niente adesso ho veramente pochissimo tempo sì sì ci sono ci sono che succede siamo noi siamo noi siamo noi perché siamo nella stessa stanza io sono di fronte a Giulia Giulia è di fronte a me quindi ci confliggiamo con con allora purtroppo è rimasto pochissimo tempo se non gli avanti sì sì io comincerei a dare proprio un input su quello che sarà la prossima lezione dai come recuperi la prossima lezione no noi non abbiamo paura di niente lo sai non ci non ci fa paura assolutamente niente allora vado in condivisione veloce rapida perché non voglio assolutamente far perdere tempo a nessuno l'importante è riuscirci ci sono ma che ho chiuso il collegamento no ci sei scusate non vi vedevo più non vi sentivo più ho detto dove stanno allora un attimo che vi ho persi però ecco qua ma la vedete la condivisione ancora ricominciamo sta partendo è partita bene sì è partita allora lo sviluppo la formazione dell'uomo attraverso il movimento inizio subito col dirvi che io vivo di movimento sono una persona sempre in movimento è difficile tenermi ferma quindi oltre a viverla su di me questa sensazione di benessere che mi può dare lo stare soprattutto in contatto con la natura e quindi attraverso il muovermi della natura significa che amo profondamente la vostra disciplina l'ho apprezzata da subito come ho detto prima e la promuovo tantissimo anche tra i miei studenti qui all'università e l'ho sempre promossa tantissimo anche nella scuola quando insegnavo ritengo che la natura e l'uomo siano un unico cocktail eccezionale e performante ma solo quando c'è interazione tra l'uno e l'altro la natura a volte può sembrerci anche ostile no? come prima dicevamo c'è stato un terremoto più vicino di recente qualche ora fa bene questa ostilità però è sempre data da qualcosa che noi sbagliamo nei confronti della natura quindi l'uomo come si pone in natura come si come tratta la natura e soprattutto come la la considera allora noi siamo parte della natura quindi non dobbiamo considerarci una cosa avulsa che guarda usa e fa come dire fa parte di un sistema che non con il mio appartiene noi siamo proprio lì dentro siamo una particella di questo tutto che è fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità della natura stessa ci consente di essere come dire quello che siamo e quello che vogliamo essere ma il problema è proprio questo che cosa vogliamo essere oggi noi lottiamo terribilmente con la sedentarietà che è la prima causa di mortalità e morbidità nel mondo non solo perché perché porta a che cosa tutte quelle patologie invalidanti che sono le cardiovascolari respiratorie quindi le funzionali importanti ma se noi ci rendessimo conto sostanzialmente che il movimento è la funzione primaria dell'uomo e dalla quale non possiamo prescindere ma attenzione io come movimento non intendo la flessione e estensione delle braccia la corsa il salto eccetera cioè il movimento è proprio lo sviluppo delle capacità intellettive quello di cui ha parlato prima Giulia nel suo intervento bellissimo che ho carpito diciamo purtroppo in maniera non completa però molto ho sintetizzato quello che ho sentito e ho capito che siamo perfettamente sulla stessa lunghezza d'onda ma del resto non potrebbe essere diversamente per cui il movimento è quello che noi recepiamo dall'esterno dall'ambiente e che traduciamo poi in messaggi in output cioè in messaggi che ritornano che arrivano nell'ambiente per cui maggiori sono gli input che riceviamo più informazioni riceviamo più noi costruiamo un vissuto un'esperienza quindi sviluppiamo delle capacità intellettive che ci portano poi ad avere delle funzioni e automaticamente io adesso lo sto dicendo in maniera molto più elementare molto più basica di come si è espressa Giulia perché non è il mio lavoro quello di studiare diciamo la mente però io devo studiare devo sapere come funziona devo sapere è fondamentale perché mi serve per capire come i ragazzi apprendono e dove devo inserirmi io per far apprendere al meglio i ragazzi queste capacità far funzionare meglio queste capacità intellettive e quindi rapportarle a tutta la loro formazione perché quello che ci interessa almeno per quello che riguarda questa mia parte di programma è proprio la formazione dell'individuo cioè lo sviluppo adeguato giusto funzionale funzionale a che cosa? alla sua vita non per forza allo sportivo attenzione alla vita prima di tutto alla vita e poi se vuole diventare uno sportivo perché no quindi sviluppo delle capacità intellettive miglioramento mantenimento e conservazione della funzionalità dell'organismo quanto quanto beneficio si ha dall'attività motoria dal movimento mantenersi in forma mantenere elastici muscoli mobilizzando le articolazioni ma voi direte ma dobbiamo essere degli atleti per avere tutte queste funzioni no no assolutamente no e poi vedremo perché sviluppo delle capacità di comunicazione di interazione l'ho detto all'inizio interagire con l'ambiente significa interagire con noi stessi cioè quando noi stiamo bene con noi stessi interagiamo benissimo con tutto quello che ci circonda e il benessere ce lo dà proprio la natura ce lo dà il riconoscerci in questo mondo bellissimo che dobbiamo saper apprezzare amare rispettare e vivere costantemente miglioramento delle capacità motorie abilità e capacità di prestazione benissimo siamo arrivati che significa miglioramento delle capacità motorie abilità prestazione significa che io attraverso tutti questi input che ricevo sin da quando da individuo nasco divento divento come dire un essere da un genotipo divento fenotipo cioè vengo al mondo e comincio a interagire col mondo allora in quel momento io comincio già ad attivare degli apprendimenti importanti che mi servono poi per costruirci sopra altre situazioni in termine tecnico queste sono chiamate sono chiamate esperienze ma sono anche chiamate prassie cioè sono come dei filmati nella nostra mente che si vanno a incasellare del resto è come il funzionamento di un computer che abbiamo inventato noi umani quindi il computer funziona esattamente con il funzionamento umano cioè noi mettiamo da parte archiviamo dei filmati della nostra vita che si chiamano esperienze o flessie come volete e li andiamo a richiamare ogni volta che ci servono perché quella nozione in archivio ci consente di come dire di migliorarla e metterci dentro un'ulteriore esperienza un'ulteriore capacità un'ulteriore modo di vedere le cose quindi di crescita di apprendimento e così via funzioniamo esattamente così è chiaro che c'è una regola con la quale bisogna attuare questo procedimento questo procedimento di apprendimento questo senz'altro quindi adesso piano piano vedremo come funziona ricordiamoci che nei bambini l'attività motoria il movimento non fa altro che favorire è un corretto sviluppo psicofisico non pensiamo mai che siano due cose staccate diciamo il sistema nervoso centrale dal movimento sono tutt'uno cioè noi non facciamo nulla che non sia pensato ragionato e voluto non esiste un movimento sapete qual è uno dei pochi movimenti automatici che facciamo senza che lo vogliamo chiudere gli occhi quando starnutiamo provate a starnutire con gli occhi aperti impossibile ecco questa è una delle poche cose che noi facciamo senza volerlo poi per tutto il resto noi tutto quello che facciamo a parte gli automatismi che fanno parte comunque di un sistema di apprendimento che potremmo anche vedere più in là ma noi tutto quello che facciamo lo relazioniamo da un input e un output che esce dal nostro sistema nervoso centrale quindi immaginate quale grande computer ancora inesplorato è il nostro sistema nervoso centrale è una fonte inesauribile di risorse di funzionalità e proprio per questo motivo è difficile da studiare ancora difficile da capire come tante malattie psichiatriche tante situazioni vengono non si riescono a guarire e vengono e affiorano di giorno in giorno a seconda degli studi delle ricerche che ci sono nel mondo a livello di letteratura scientifica ma partiamo dal bambino il bambino deve costituire per essere interattivo per agganciarci sopra agli apprendimenti di cui stiamo parlando deve essere un bambino scusa Massimo sono a lezione e deve essere un bambino che cresce bene che si forma bene che si sviluppa bene che ha una una capacità di organizzazione del suo corpo con l'ambiente assolutamente come dire condotta in una maniera migliore chi può condurre questo se non le persone che gli stanno intorno qui c'è una mamma con il suo bambino che gioca che si relaziona con lui dandogli degli input ecco il bambino si muove si prende i piedini si mette le cose in bocca e noi ci arrabbiamo ma non è un modo per essere come dire per far arrabbiare la mamma o il papà o la nonna o chi sta con lui ma è un modo per conoscere il mondo è la fase orale di cui ha tanto parlato Freud cioè il bambino che si relaziona toccando tutto girando per la casa carponi rotolando ecco rotolare camminare carponi cominciamo già a parlare di abilità motorie abilità motorie sulle quali si costruisce la vita del bambino che vuole conoscere il mondo vuole stare in braccio non è piccioso vuole stare in braccio perché quando sta in braccio la mamma o il papà vede il mondo non sta chiuso sotto una cappotta di una carrozzina o dentro un seggiolino costretto con le cinture ma sta in un mondo reale di colori di movimento di azioni e quindi ha una visione più completa a 360 gradi tridimensionale della realtà perché il bambino impazzisce per un telefonino impazzisce per il telefonino perché il telefonino ha molti funzioni è colorato risponde suona cade lo maneggio è piccolo quindi il bambino gioca con le cose piccole provate a regalare un orsacchiotto enorme al bambino lo guarda quasi si spaventa e non ci gioca magari gioca poi con la scatola con l'involgore con la carta con la quale è stato convenzionato per cui ha bisogno di qualcosa che lui può gestire manipolare che può usare l'orsacchiotto grande sarà pure bello ma lui dice da dove comincia questo orsacchiotto ok quindi vanno insegnate tutte queste piccole cose vanno comprese queste piccole cose quindi il bambino deve essere lasciato lì però anche di cadere e di rialzarsi con le dovute attenzioni perché non possiamo permettere che si faccia male per carità però oggi sentiamo molto spesso e sentirete nella scuola quando andrete a fare il vostro lavoro anche le maestre oddio andate piano sudate oddio state correndo oddio state correndo non è una cosa bella da sentire bisognerebbe dire per fortuna che corrono per fortuna che sudano per fortuna che si muovono e invece siamo arrivati in una società dove se i bambini si muovono corrono danno fastidio oppure devono essere messi in contenitori dedicati a loro perché sennò si agitano e ci come dire ci danno fastidio insomma diciamo che stiamo un po' disumanizzando l'apprendimento e quello che deve essere un bambino che deve crescere deve svilupparsi in contatto con l'ambiente non può svilupparsi stando seduto a una sedia o stando spalmato su una poltrona o stando chiuso in una stanza si sviluppa le sue capacità proprio stando nell'ambiente ecco perché l'orientering è favoloso da questo punto di vista perché ti porta fuori anche se si può fare in una classe perché con Vincenzo abbiamo fatto anche questo abbiamo fatto orientering dentro la classe quando era brutto tempo quando non potevamo uscire quando c'era la neve in questi paesi nostri abruzzesi eccetera l'abbiamo fatto è carino ci siamo mossi abbiamo cercato le lanterne nei punti insomma diciamo le lanterne ma non le lanterne nei vari punti della scuola e c'è stato questo mappare la scuola quindi c'è stata un'interazione integrazione con le altre discipline è una disciplina formidabile perché mette insieme tantissime applicazioni mette insieme la geografia la storia l'italiano la lingua tutto le scienze la matematica quindi è una disciplina completa parliamoci chiaro io ne parlo con molto entusiasmo ma anche con molta contezza intanto perché con Vincenzo ho avuto la fortuna di poter praticare insegnare e stare nelle gare cosa che ormai non posso fare più per motivi purtroppo legati a un lavoro diverso eccetera ma perché poi vedi il risultato cioè tocchi con mano quanto questi ragazzi acquisiscono da questo rapporto con l'ambiente e sapersi relazionare con un bosco un bosco per i ragazzi di oggi che cos'è? uno sconosciuto eppure no le voci del bosco i sentieri i ruscelli il pavimento scusatemi non il pavimento volevo dire il terreno diverso c'è il fango non c'è il fango c'è il brecciolino ci sono i massi c'è il sottobosco cioè tutte queste cose che ti danno la dimensione di come affrontare tante difficoltà in maniera diversa quindi trovare soluzioni problem solving di cui parlava anche prima Giulia cioè capite bene che tutto parte dal nostro rapporto proprio il nostro corpo attraverso l'ambiente quindi è importante creare uno schema corporeo equilibrato in cui attraverso proprio il contatto diretto interattivo con l'ambiente esterno noi percepiamo di avere degli arti superiori delle mani dei piedi bambino non si mette il piede in bocca perché è elastico o è particolarmente flessibile tutti i bambini sono elastici si è metto in bocca perché conosce un nuovo aspetto del suo corpo a mappela c'è un piede chissà che ci posso fare con questo piede ok e arriverà poi a capire che c'è un'estremità con quell'estremità potrà appoggiarsi tirarsi su poi magari prima camminare carponi prima ancora rotolare insomma tutte queste varie fasi che non stiamo qui a dirci perché sono lunghe anche come dire chi di voi è padre o ha un fratellino una sorellina insomma può vederlo quotidianamente questo aspetto di crescita ma dopo questo schema corporeo importante che noi ci costruiamo dobbiamo riconoscere che abbiamo una macchina una specie di mezzo con il quale possiamo muoverci prendere camminare correre saltare rotolare lanciare arrempegare scavalcare questi non sono altro che abilità motore di base che non ci insegna nessuno che vengono intuitivamente apprese con il rapporto con l'ambiente che ci circonda ok quindi queste abilità sono innate sono intuitive sono istintive e noi dobbiamo lavorare su queste abilità per cui l'orientering ce le ha tutte nell'orientering si può camminare oppure si può correre si deve comunque saltare quando c'è un ostacolo quando c'è qualcosa che ci impedisce di andare avanti quindi dobbiamo scavalcare se non vogliamo saltare possiamo anche rotolare perché magari correndo e camminando inciampiamo rotoliamo e abbiamo una necessità anche di saper rotolare saperci rialzare lanciare forse non lo so fino a un certo punto arrampicare qualche cosa può accadere quando i terreni sono un po' più incidentati chiamiamolo così scavalcare l'abbiamo già detto ma tanto altro ancora quindi riempie tutto il settore delle abilità motore di base cioè rientra pienamente in tutto questo che è la formazione dell'individuo attraverso proprio l'attività di movimento insieme a tutto questo ci sono le capacità senso percettive perché noi attraverso vi dico questo poi magari ci fermiamo riprendiamo la prossima volta perché vedo già che siamo alle 19.35 non voglio approfittare della vostra pazienza e soprattutto della della situazione che è tardi e capacità del senso percettivo vi dico subito questo concetto poi la prossima volta andiamo avanti non sono altro che la capacità dei sensi noi abbiamo cinque sensi fondamentali importanti e se ne manca qualcuno riusciamo a sostituirlo con gli altri sensi siamo bravissimi quindi anche chi è ipovedente ipodente riesce a vivere tranquillamente benissimo non parliamo di disabilità sono solo meccanismi diversi che si mettono in funzione sono delle persone straordinarie noi che lavoriamo anche con la disabilità queste cose le tocchiamo con mano ogni giorno e ci fanno rendere conto di quanto a volte i disabili siamo noi e non loro ma ripartendo dai cinque sensi l'udito il tatto la vista l'olfatto il gusto sono quelle sensorialità che ci permettono di entrare in contatto con l'ambiente se sento che una cosa scotta mi allontano se sento che una cosa è troppo fredda mi allontano sento gli input sapete quante volte attraverso l'attività motoria noi scopriamo che i bambini sono ipoudenti invece di dire questo è stonato non capisce niente ci rendiamo conto che invece sono bambini che non sentono bene semplicemente dannogli un comando perché non ti giri non mi hai sentito e poi magari dandogli un comando con un'azione visiva il bambino risponde perfettamente allora là si capisce che mentre altri colleghi li avevano giudicati come dei stonati sono semplicemente dei bambini con una ipocusia e quindi con un svantaggio sostanzialmente anche se non è proprio un vero e proprio ma sicuramente uno svantaggio quindi attenzione a volte a giudicare i nostri ragazzi i nostri studenti bisogna sempre vedere che cosa c'è sotto nessun bambino nasce cattivo nessun bambino nasce stupido o nasce diciamo deficiente nel senso di deficere nessuno e siamo noi che con adulti che abbiamo la responsabilità di avviarli alla vita nel modo migliore di assecondarli e portarli ad essere delle persone mature e adeguate per una vita tutta quindi se c'è qualcosa che non va ci dobbiamo sempre chiedere che cosa sta succedendo dove stiamo sbagliando e perché stiamo sbagliando ma mai colpo ecolizzare un bambino non capisce non è vero forse non gliel'hai spiegato bene o forse non è stato attento o sei stato particolarmente motivante non sei stato particolarmente interessante e tu quindi magari riproponiti in un'altra maniera non dire che è stupido e te ne vai è troppo comodo no con i ragazzi bisogna avere tanta pazienza bisogna starci vicino bisogna comprenderli capirli e soprattutto bisogna stare con loro e per loro se si vuole lavorare con i ragazzi non possiamo stare da un'altra parte quando entriamo in una classe quando stiamo con i giovani soprattutto con i ragazzi piccoli non dobbiamo mai disattendere il loro entusiasmo la loro voglia di stare con noi vabbè vincenzo ho capito sei apparso come un censore proprio va bene io poi tu lo sai che quando parto non mi fermo più sono abbastanza logorraghia bene comunque sulle capacità di senso e tutto il resto che verrà ci torniamo perché sono fondamentali e importanti probabilmente la prossima settimana Giulia continuerà quello che deve finire di dire e io mi attaccherò subito dopo e vedrete come questi due discorsi vanno di pari passo non a caso ci siamo messe in tandem proprio perché stiamo lavorando parlando proprio no? io più dell'aspetto pratico tecnico applicativo e lei più dell'aspetto diciamo teorico funzionale io spero di anche nella brevità di essere stata come dire di avervi un po' stimolati alla prossima volta dimmi grazie Giulia un ottimo avvio e sicuramente è un'anteprima di quello che ci aspetta la prossima settimana e sicuramente saremo parlo anche per tutti gli amici orientisti saremo in attesa appunto di ricollegarci e riascoltarvi io non chiedo se ci sono domande perché non ho detto granché ne parliamo la prossima volta e faremo una come dire anche una sì è un dibattito volendo ma tavola rotonda su ma tavola rotonda perché stiamo parlando con persone adulte di esperienza quindi è giusto confrontarsi sulle domande che ci state sottolineando sì io io vi vi ringrazio e naturalmente in tutto questo non sono da solo c'è anche Elena Poli che in questa giornata era assente ma nelle prossime ci sarà come consigliere federale che ha proprio il compito di gestire un po' tutto quello che noi stiamo facendo dal punto di vista politico amministrativo quindi saluto saluto tutti i colleghi che sono si sono collegati vi ringrazio e a presto buona serata a tutti grazie a te Vincenzo grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltati grazie veramente da parte di Giulia possiamo interrompere sì possiamo sì sì possiamo